In paesi come Norvegia, Svezia, Australia, Nuova Zelanda, Giappone sono diventati parte del paesaggio. Ma anche l'Europa sta imparando a declinarli. Sono gli ecodotti, una sorta di corridoi riservati alla fauna selvatica. Sotto o sopra le grandi arterie stradali si rivelano un efficace bypass di sopravvivenza per l'animale, ma permettono anche di salvare l'uomo evitando molti incidenti. Ce ne sono per granchi rossi, per tartarughe, per pinguini, persino per api e naturalmente per orsi. Gli ecodotti sono solo uno dei possibili rimedi al pericolo cui è esposta la fauna selvatica. In Abruzzo il problema c'è da anni, ma anche le soluzioni, solo che nessuno ha voluto o saputo ispirarsi a quei paesi che le hanno adottate con successo. Secondo le associazioni ambientaliste che sono intervenute sulla morte di Juan Carrito, bisogna contenere la velocità nelle aree di attraversamento con dossi e limiti, ma realizzare al più presto anche gli ecodotti. Parlano Stefano Civitarese di Salviamo l'Orso e Augusto De Santis del Forum H2O. Valutazione da un punto di vista più razionale e dal punto di vista dell'associazione, che è nata proprio con lo scopo di salvare l'orso Bruno Marsicano, è di grande amarezza perché è un'ulteriore dimostrazione che le azioni, anche le più semplici, che debbono essere poste in essere per consentire che questa piccola popolazione di orso Bruno sopravviva negli anni, non vengono poste in essere. Quindi c'è una grandissima carenza dal punto di vista degli interventi che potrebbero essere fatti, per esempio i cosiddetti ecodotti o la riduzione della velocità in certe aree, che sono quelle chiave poi, perché è incredibile pensare che nello stesso punto quasi un fatto ancora più grave, perché in quel caso una femmina di orso Bruno Marsicano fu investita un paio di anni fa. Da molti anni noi diciamo che servono ecodotti, in molti paesi europei ci sono questi sovrappassi sulle strade verdi, fatti apposta per far attraversare in sicurezza gli animali, non solo orsi, cinghiali, cervi, caprioli, in Croazia, nelle autostrade c'è, perché in Croazia ci sono gli orsi, in Abruzzo in tanti anni ne hanno costruiti zero. Il numero è zero nella regione dei parchi. Si fanno molte chiacchiere in questa regione, si fa molta retorica sull'orso, fatti molto pochi. Gli animali più o meno tendono ad attraversare sempre nei soliti posti, dove c'è il bosco, dove al lato della strada, dove c'è la possibilità appunto di attraversare più facilmente. E quindi noi dobbiamo pensare che sono le strade che invadono il territorio degli orsi e non il contrario.